Dopo la Carta di Milano di Expo 2015, i rappresentanti di tutti i continenti, il 3 e 4 marzo prossimi, si confronteranno a Cremona per fare il punto sulle azioni da promuovere e sugli strumenti concreti da adottare per contrastare lo spreco alimentare. Il convegno, che è stato presentato a Palazzo Pirelli, coinvolge oltre 30 paesi e rappresentanza di tutti i continenti. L'evento, che si svolgerà presso la Sala Maffei della Camera di Commercio, è stato organizzato dal Centro Incontri Diplomatici in partnership con la Federazione Nazionale Consoli Esteri e sotto l'alto patrocinio del Parlamento Europeo. Dalla Lombardia vogliamo continuare a costruire ponti e non a costruire muri, attraverso occasioni di dialogo fra i popoli e attraverso scambi di esperienze e forme concrete di collaborazione. E dall'altro, perché il tema è davvero importante, si riallaccia al lavoro che abbiamo fatto con Expo poco più di un anno fa e che continua a Milano e in Lombardia come sede di riflessione sulle modalità con cui si può contribuire a riconoscere concretamente il diritto al cibo per tutti e ridurre sempre di più lo spreco alimentare. Hanno assicurato il loro patrocinio, oltre al Consiglio regionale della Lombardia, anche la Presidenza del Consiglio, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il Ministero dell'Ambiente, il Ministero dell'Agricoltura, il Corpo Consolare di Milano e della Lombardia e le principali istituzioni territoriali. Questa è una grande occasione per incontrarci con i corpi diplomatici di molti paesi, oltre 30 consoli hanno già assicurato la loro presenza, su un tema che trova nella città di Cremona, nel territorio di Cremona in particolare, il luogo giusto, perché è innegabile che essendo al centro della Pianola Padana ha nelle sue caratteristiche la produzione e la trasformazione agroalimentare.